Sono Paraca De Martiri, designer, sono qua nella Press Preview di Outa Roma e con Excelsior. Il mio percorso ha iniziato con la grande voglia e la passione per gli accessori. Ho fatto Industria del Design in Brasile e volevo venire in Italia per fare una specializzazione. Ho scelto Milano, ho fatto un master di accessori, sono appassionata del mio lavoro e cerco di fare il meglio che posso. Vescolare i materiali, il colore, cioè fare con l'amore è quello che so far bene. La collezione che presento Outa Roma è un po' purì di quello che è il mondo Paraca De Martiri adesso. La parte di Eric, con la fibra iconica, con i tali nella patella, con il mix di colore. La parte radical, che è un po' più edgy, con le frange, con il monomateriale, con l'interno in pelle. Sono tutti i dettagli che vengono essenzialmente molto calcolati e pensati. Le minudier, che sono le cloche, le borse a sera, che sono divertenti con gli smalti. Finalmente la collezione di scarpe. Ho questa gioia, questa voglia di colore che comunque ha una necessità. La fibra è nata con la voglia di trasmettere un concetto, un gioiello nella borsa, un uso in dettaglio, fatto per ogni singolo pezzo della collezione. La fibra è la stessa, tutta pantografata, una a una, c'è una lavorazione molto molto ampia. E' questo gioiello, questa preziosità. La borsa per una donna è la sua compagna di viaggio della giornata. E' l'oggetto che la donna scegli per portarsi con sé. E' bello il mondo delle borse. Io immagino che il futuro, continuare tantissimo a lavorare e magari, perché no, raggiungere il primo monomarca. Sarebbe veramente un sogno nel cassetto.